Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia, quanto costa dire la verità? Qual è il suo prezzo? Il 18 maggio è venuto a mancare il dottor Rashid Buttar, un rispettato medico per aver coraggiosamente denunciato tra i primissimi la psicopandemia e i sieri sperimentali. È stato inserito nella lista nera dei 12 più pericolosi disinformatori dai media globalisti insieme a Robert Kennedy Jr. Dopo aver visto negli ultimi mesi venire meno improvvisamente e spesso in circostanze misteriose uomini del calibro del dottor Giuseppe De Donno, del dottor Domenico Biscardi, dell'ex senatore Bartolomeo Pepe e del caro amico compagno di tante battaglie dottor Franco Trinca, per citare solo alcuni degli italiani deceduti dopo essersi espressi con determinazione e vigore a favore della verità. Ci passo doveroso ricordare un uomo dall'indubbia levatura morale come il dottor Rashid Buttar. Dedichiamo in sua memoria questo video con la speranza di fare un po' di luce sulle cause della sua morte avvenuta a soli 57 anni. Questa l'email inviata dalla sua famiglia per avvisare della sua morte. Potete vedere il video integrale sul nostro canale Telegram. Iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi su Telegram e condividete il video. Più siamo più forza avremo. Uniti si vince. Un abbraccio dal vostro Roby